910 bigliettini appesi ad un albero d'ulivo di fronte al San Jacopo di Pistoia, uno per ogni neonato nato nell'ospedale nel corso del 2020. È l'albero della vita che simboleggia la nascita e la rinascita dell'essere umano anche nelle circostanze più difficili e complicate di sempre. Insieme al dottor Agostiniani, che è il direttore della pediatria di Pistoia, ci siamo inventati la festa degli auguri. Quindi ogni 22-23 dicembre accoglievamo tutte le famiglie che avevano partorito. C'era tutta una festa qui all'ingresso dell'ospedale. Quest'anno purtroppo il Covid ci ha bloccato anche in queste manifestazioni. Una festa che era diretta non solo alle famiglie ma anche agli operatori perché comunque fa sempre piacere vedere cosa si è prodotto, perché anche noi abbiamo dato il nostro contributo. Quindi abbiamo deciso di prendere un albero qui fuori, un albero dell'ulivo, l'albero della vita, non a caso, e di appenderci tutti i nomi dei bambini che sono nati nel corso del 2020. Volevamo proprio dare questo segnale con l'olivo e con il nome di tutti i bimbi nati nel 2020. Volevamo proprio dare un messaggio di speranza, di rinascita, per fare in modo che tutti sappiano che l'ospedale Saiacopo è andato avanti nonostante il Covid. Molte mamme si sono rivolte all'ospedale nonostante nella prima ondata questo ospedale sia stato quello maggiormente colpito dai numeri di accessi per l'epidemia. Quindi è proprio un segnale forte che vuole dare Pistoia come segno proprio di rinascita.